Bartoccini, Forti Infissi, Perugia, adesso è ufficiale nella squadra di Serie A1 femminile della prossima stagione, come svelato qualche giorno fa. Ci sarà anche la palleggiatrice Isabella Di Giulio che racconta di essere molto contenta di questo nuovo incarico. A partire dal primo contatto tramite procuratore, sino ad arrivare alla prima chiamata con la dirigenza dove mi veniva esposto il programma, sono stata sempre da subito soddisfatta. Sicuramente a convincermi, quanto ha concluso, è stata l'idea precisa e decisa che Perugia della prossima stagione, soprattutto della squadra che vuole allestire, poi aggiungo, il volermi fortemente questo è un fattore che lusinga sempre molto un atleta.